Nel recupero per l'Urbeteveri di D'Andrea che batte a domicilio la polisportiva Carso per 0-2 nel campionato Under-16, girone B. Con i gol di Moretti e Mosche, restando in scia della nuova Tor-3 testa capolista con 4 lunghezze di vantaggio, pari al Grifone, Carso che resta comunque in zona quarto posto play-off. Prima occasione per i padroni di casa dal decimo, lungo, batti e ribatti in aria, poi D'Auria, parola alla conclusione, palla alta che termina sopra la traversa. Alla ventunesimo risposta Urbeteveri che inizia a farsi vedere, angolo che attraversa tutta l'area di rigore avversaria, poi termina in out. Alla venticinquesimo altro corner su cui Mariani di testa va vicino al gol. Ancora giallo-blu che attaccano e alla mezz'ora viene steso in aria la penna e penalty che Giazzetta para su Paolucci in due tempi. Nel finale di frazione traversa piena dall'Urbeteveri su conclusione di Mariani. Ad inizio ripresa Urbe ancora pericolosa, stavolta in ripartenza, dopo 5 minuti Di Marco va via. Il numero 11 in maglia giallo-blu prova il destro che termina in diagonale fuori, non di molto. Al quarto d'ora risposta da parte dei padroni di casa, palo pieno colpito da Tauria con palla che poi termina in out. Urbe che va vicino al gol al ventitreesimo Di Marco, fa tutto bene, si libera in aria ma al momento della conclusione spara alto sopra la traversa. Carso invece pericoloso da corner al ventottesimo colpo di testa che termina fuori di un soffio. Nel finale le due reti che decidono il match al quarantaduesimo, secondo di recupero Moretti su punizione trova l'angolino giusto, 0-1 e Urbeteveri in vantaggio. Quattro minuti più tardi, contropiede che gli accetta, respinge la prima conclusione su Monce, però non può nulla, 0-2, match in ghiaccio. E arriva praticamente il triplice pistio del direttore di gara, Urbeteveri, batte a Polisportiva Carso, 0-2. Grazie.